Luca Yurman sta letteralmente facendo scoppiare un casino con le sue rivelazioni dietro al mondo della musica, raccontando di come funzionano i talent, le etichette e molto altro, scatenando un fenomeno purtroppo non molto singolare, ma fin troppo evidente, che ha attirato la mia curiosità. Trovi l'episodio completo qui sotto e mi raccomando, aspetto di leggere il tuo commento in merito.